Proseguiamo con la penultima cantante di questa categoria inediti, grazie mille. Ho il balletto, ho il balletto personale questa sera. Lei ha solo i 26 anni e arriva da Urbino. Il suo sogno è diventare cantante di vivere di musica in tutto per tutto. Di Giulia Ciaroni, canta, sopravviveremo. Giulia Ciaroni! Grazie a tutti. Tanto gusti le tue gioie, ti sembra di volare via. Oggi voglio che le tue carezze si incontrino con le mie fantasie. Ora sei vicino a me, sei quel ritmo intorno a me. Siamo immersi dentro noi per vivere e non per sopravvivere. Sopravviveremo allo scorrere del tempo, a quel fumo nero, al sapore del veleno. Sei tu quel vizio che mi manca, sei quella faccia che non stanca, lo sguardo che segna il mio corpo. Quel po' di rabbia che mi porto, ora sei vicino a me. Sopravviveremo allo scorrere del tempo, a quel fumo nero, al sapore del veleno. Ma cos'è che ci fa vivere? Ma cos'è che ci fa stringere? Saranno i nostri giorni stupidi Sopravviveremo allo scorrere del tempo, a quel fumo nero. Al sapore del veleno. Sopravviveremo allo scorrere del tempo, a quel fumo nero. Casi amore del veleno. Sopravviveremo allo scorrere del tempo, a quel fumo nero. Grazie. Giulia Ceroni! Allora, ascoltiamo un commento della giuria, ok? Chi c'è? Aspettiamo un attimo, eh. Si stanno consultando. Per educazione ci guardi. Allora, intanto Giulia, complimenti. Il pezzo è tuo, vero? Ho sentito bene, ok. Allora, proprio a caldo ti dico, stavo parlando con Lorenzo, sembrava un pezzo scritto apposta per Fiorella Mannoia, quindi complimenti, insomma. Questo è un bene da una parte, se faccio sempre un po' il discografico palloso, è un male dall'altro. Che significa? Che se scrivi un bel pezzo, si significa che hai tanto da dire e che in qualche modo lo sai dire. Magari basta, in discografia si chiama il graffio, quella cosa un po' più di originalità che, quando lo sento, non dico, sembra un pezzo per la Mannoia, ma sembra un pezzo per Giulia Ceroni. Quindi magari, visto che sei andato fino a qui, sicuramente dentro hai ancora un po' più di coraggio per esprimerti ancora di più. Cioè, lasciati magari, lo dico chiaramente avendo sentito un pezzo al volo, quindi prendi per buono quello che ti dico, lasciati andare. Quando scrivi, scrivi ancora di più. apri ancora un po' più le porte della tua scrittura e vedrai che uscirà cosa ancora più bella di questo, ma ancora più personale. Ok? Grazie. 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 Grazie.